Compleanno salentino per il noto conduttore televisivo italiano Gerry Scotti, che ha scelto il Salento per trascorrere le vacanze estive e festeggiare il suo 67esimo compleanno. Gerry Scotti, uno dei nomi e dei volti più conosciuti del peninsesto diurno della rete televisiva Mediaset, ha trascorso la prima parte di questo torrido agosto tra lo splendido mare e le caratteristiche masserie che il territorio ha da offrire. Sono stati tanti i selfie pubblicati dai fan sui social con la nota celebrità, circoscrivendo gran parte del territorio salentino. Il conduttore di Tusichevales ha condiviso sulle sue stories Instagram un siparetto dedicato alla cucina all'aperto e al relax, in compagnia di Giuliano Sangiorgi, il frontman di Negramaro. Sono stato ingaggiato perché so che lei, maestro, oggi ha le prove. Queste le parole del conduttore, intento a cucinare un invitante e pasta alle cozze per il suo celebre commensato.